Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? L'Umi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. L'Umi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. L'Umi Beer si abbina a qualsiasi palato. L'Umi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un furgone con a bordo 36 cuccioli di cane proveniente dalla Serbia è stato fermato all'ex valico di Sant'Andrea a Gorizia dei poliziotti del reparto di prevenzione e crimine di Torino di rinforza alla polizia di frontiera. I cuccioli viaggiavano in condizioni non idonee, stipati in piccole gabbie e molti privi di documentazione sanitaria. In considerazione delle precarie condizioni di trasporto degli animali, è stato necessario approfondire anche le condizioni di salute degli stessi attraverso i veterinari della locale azienda sanitaria. Alcuni cani di grosse dimensioni erano stati stipati in gabbie talmente piccole da impedire loro la possibilità di poter mantenere una posizione retta o distesa, causandone sofferenze. Nel corso degli accertamenti è emerso che si trattava di cani di pregio, la maggior parte dei quali appartenenti a razze tipicamente utilizzate per la caccia. Segugi, bracchi e setter inglesi, già dotati di certificazione attestante all'addestramento venatorio ricevuto, il cui valore di mercato, proprio in virtù delle specifiche caratteristiche, sarebbe stato in alcune migliaia di euro per esemplare. Il furgone è stato ritenuto non idoneo per il trasporto ed un numero così elevato di animali, considerata soprattutto la lunga durata del viaggio, che avrebbe dovuto poi proseguire verso altre località italiane, mentre il conducente del mezzo è scattata la denuncia per violazione delle norme sul trasporto e introduzione di animali da compagnia. Tutti i 36 cani sono stati affidati alle cure dei veterinari del canile di Udine e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria che sta procedendo anche per il reato di maltrattamento di animali. Claudin, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira burda, collio e quai. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.